Cennette Barbara, lei è direttore di ripartizione dell'Ipes, questo immobile, l'ex scuola professionale St. Joseph, attualmente è in parte di proprietà dell'Ipes. Questa mattina è stato occupato, però in realtà l'anno prossimo già dovrebbero iniziare i lavori. L'anno prossimo dovrebbero iniziare i lavori per la costruzione di 55 alloggi sociali. Adesso abbiamo il finanziamento, il procedimento avviato in comune e non dovrebbe più succedere niente, quindi dovrebbe porre fine allo stato di abbandono dell'edificio. Questa mattina appunto denuncia un forte stato di degrado, denuncia anche in parte quello che è il sentimento da parte di alcuni residenti della zona, uno stato di degrado che andrebbe avanti però da diverso tempo. Sì, non so da quanto tempo esattamente perché noi siamo entrati in possesso dell'immobile, non voglio dire stupidate, però credo tre anni fa più o meno, però era già abbandonato prima. E quindi certo va avanti da tanto tempo e certo che dà un certo fastidio ai residenti, però le cose sono così. Attualmente lo stabile è stato occupato appunto dal movimento politico di Casa Pound, quali mosse avete intenzione adesso di percorrere? Ma certamente l'occupazione è abusiva e non possiamo tollerarla, quindi ci muoveremo come ci consiglieranno di muoverci le parti competenti.